Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro oltre 73.000 mascherine pseudoprotettive con istruzioni in sola lingua inglese o cinese e prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. In particolare le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno scoperto a bordo di un autocarro 30.000 dispositivi di protezione individuale privi della certificazione obbligatoria. Sequestrare i dispositivi rinvenuti è sanzionato un 25enne di origine cinese residente a Portici per violazioni al codice del consumo. In un secondo intervento le stesse fiamme gialle hanno scoperto e sequestrato oltre 43.000 mascherine FFP2 prive dei necessari requisiti di conformità. Il titolare dell'attività è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato alle autorità amministrative competenti. Le operazioni si inseriscono nell'ambito della costante attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, finalizzata a contrastare pratiche commerciali disoneste, truffe e frodi a danni dei consumatori. Grazie a tutti!